No, aggiungerò giusto due parole a quello che ha detto il professor Giovannini, volevo comunque associarmi ai ringraziamenti in primis al rettore, ai colleghi che si sono prestati alla realizzazione di questo libro, al sindaco per averci ospitato oggi. Avendo lavorato sul tema del terremoto da psicologi ci siamo resi conto presto che quello che avevamo fatto noi era una piccola parte di ciò che avevano fatto i colleghi di altre discipline, abbiamo pensato che sarebbe stato veramente un peccato non riuscire ad avere una visione complessiva di un lavoro comunque importante svolto dall'università in relazione con il territorio. Dalla mia prospettiva di psicologo per raccontare subito dopo gli eventi sismici ragionando con il professor Giovannini, con Alessia Cadamuro, con i nostri colleghi abbiamo ragionato su quelle che potevano essere le priorità e nella nostra visione la priorità era in qualche modo sostenere la popolazione che fosse quella delle tendopoli, i bambini delle scuole, abbiamo lavorato in questi termini insomma. E con la realizzazione in realtà di questo volume, sapevamo che altri avevano lavorato ma è stato solo leggendo i contributi mano a mano che arrivavano che personalmente almeno ho realizzato che la priorità forse non era quella o solo quella. Per fare un esempio sono arrivati i contributi degli ingegneri che hanno testimoniato l'attività del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferraro, il contributo è specificamente su questo e allora leggendo quello viene da dire che effettivamente la priorità prima ancora delle persone è agire subito, vedere se le strutture resistono in modo che è la base su cui costruire una comunità. Prima di tutto vedi che le case restano in piedi e poi dopo arrivavano altri contributi e adesso ne prendo a caso, vedere gli effetti sismo indotti è fondamentale capire cosa potrà succedere nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Quello a cui ha accennato anche il sindaco prima, l'attività di informazione per le persone in realtà non è per niente secondaria perché è una situazione perfetta per creare leggende che si sviluppano subito, leggende metropolitane e senza di quelle, senza una corretta informazione sarebbe insomma il panico. Quindi è prioritario anche quello, i progetti, adesso io qua mi viene in mente che sono stati presentati due contributi sui progetti del professor Tomasi, del professor Andrisano. In realtà anche quelli rappresentano una priorità, sono stati svolti subito all'indomani del terremoto, un progetto per prendere piede, noi sappiamo ci vogliono mesi, anni. Però senza quell'attività progettuale non si può minimamente pensare a una ripresa e senza ripresa le persone non vanno da nessuna parte. Quindi in realtà la consapevolezza, potrei andare avanti però insomma avete capito il senso del mio discorso. Il punto è che ci si è resi conto che il terremoto è un fenomeno estremamente complesso, tante sfaccettature, sono tutte primarie queste sfaccettature. Solo che per affrontare un problema così complesso a sto punto a mio avviso diventa fondamentale il ruolo che un'università in un territorio può avere. Quali altre strutture nella società sono così attrezzate, comprendendo al loro interno così tante discipline che in realtà veramente possono sviscerare un fenomeno e affrontarlo e fronteggiarlo da tutti i punti di vista. Sicuramente l'università è in una posizione estremamente privilegiata per fare questo e questo ha fatto. Quindi da un lato per dire noi quando facciamo delle ricerche per noi interdisciplinare vuol dire per esempio lavorare solo tra psicologia sociale e psicologia dello sviluppo. Qui è un volume che raccoglie ingegneria, geologia, psicologia, pedagogia, qualsiasi disciplina a noi possiamo immaginare. Quindi il messaggio che vogliamo dare è primo certo testimonianza per quanto Unimore e il territorio insieme hanno fatto, ma il messaggio in realtà è anche propositivo. Noi siamo pieni di fenomeni sociali complessi difficili da affrontare, vengono in mente quelli vicini a me per aree di studio, problemi della disabilità e problemi dell'immigrazione. Anche questi sono complessi alla luce di una lettura come questa è abbastanza semplicistico, quasi puerile pensare di poterli risolvere solo con la psicologia. Però ancora una volta per temi così io penso l'università sia estremamente attrezzata e sicuramente tanti di noi, dei coautori ma dei colleghi dell'università, lavorano da punti di vista così diversi su questi temi. Una vera risposta io penso la potremmo dare come università solo nel momento in cui riusciremo insomma a far valere la valenza complessiva del lavoro di tutti, di tutte le discipline e non solo di una. Ecco questo libro è in qualche modo anche una nostra proposta e suggerimenti per il futuro, mi associo con il professor Giovannini di lavorare insieme.